Ok, allora, riallacciamoci a quanto avevamo iniziato a vedere sulla finale della lezione di lunedì, così proviamo a fare qualche passettino in avanti e conoscere un pochino meglio sia l'ambiente di programmazione che i primissimi costrutti del linguaggio Python che andremo a utilizzare, che useremo poi ovviamente per costruire gli esercizi che per il laboratorio di questa volta, avete visto, sono ancora in parte a livello di pseudocodice e in parte a livello di programmini di una riga o giù di lì di codice, ok? Quindi stiamo proprio solo muovendo in questa prima settimana i primi passi. Allora, se ricordate, lunedì, così per provare il programma PyCharm, per provare come funzionava questo ambiente Python che avevamo installato, avevamo scritto un programmino molto stupido di una riga di codice che usava una funzione print che ho scritto senza spiegarvi. Adesso proviamo a ragionarci su ciò che abbiamo scritto. Ciò che abbiamo scritto qua è un'istruzione, chiaramente nel linguaggio Python, un'istruzione di output in questo caso, che prende delle informazioni, dei valori, dei risultati, che il programma in qualche modo ha calcolato e li manda in uscita, in output, abbiamo visto che comparivano qua sulla console, sulla finestra di run, di esecuzione del programma stesso. Quindi nel linguaggio Python la funzione, il meccanismo per generare un output, un output in questo caso sulla finestra di esecuzione, è appunto utilizzare la funzione che si chiama print. La chiamo funzione, vedremo che Python ha a mettere a disposizione moltissime funzioni che fanno le cose più disparate. In Python chiamare una funzione significa indicare il nome di questa funzione, in questo caso il nome appunto è print, e poi un po' come siamo abituati in matematica, una funzione ha degli argomenti che indichiamo tra parentesi, tra parentesi tonde. Nella fattispecie la funzione print può accettare uno, due, anzi zero, uno, argomenti. Questi argomenti possono essere di tipo testuale, un testo, che in informatica si chiama stringa, stringa è una sequenza di caratteri, un frammento di testo, oppure possono essere di tipo numerico, possono essere dei valori già noti, costanti, possono essere delle espressioni da calcolare. Nel caso in cui c'è delle espressioni da calcolare, Python prima calcola l'espressione e poi la funzione print stamperà il risultato dell'espressione, quindi vedete che alla fine c'è scritto 5, non c'è scritto 3 più 2. Quindi la funzione print è la prima che incontriamo, dove un attimo più avanti devo riprendere, salto un po' avanti indietro perché queste cose riesco a fare più interattive che non leggendo le slide. La funzione print può avere una serie di valori indicati tra parentesi, ciascuno di questi valori viene valutato, nel caso in cui sia un'espressione aritmetica si calcola il valore del risultato e poi viene stampato questo valore. La funzione print non la devo inventare io, fa già parte della libreria standard di Python, quindi si può usare tutte le funzioni qualcuno le avrà scritte, le avrà costruite, perché il computer non sa da solo stampare, ci sarà una parte di programma che qualcun altro ha scritto che fa funzionare tra virgolette la funzione print, ma noi lavorando diciamo così, usando le funzioni del linguaggio ci possiamo disinteressare di questo, quindi impareremo più avanti a costruire le nostre funzioni, per ora impariamo solo a usare le funzioni predefinite all'interno del linguaggio. ovviamente se io scrivessi più istruzioni tipo print, è l'unica istruzione che so fare, quindi ne faccio due e posso scrivere, dica 33, mi aspetto che quando eseguirò questo programma sullo schermo comparirà quello di prima, quindi ciao 5 seguito dal 33, col piccolo dettaglio che il 33 compare sulla riga dopo, quindi abbiamo sulla riga successiva, quindi abbiamo già capito che un'istruzione print stampa ciò che deve stampare e poi va a capo e poi va sulla riga successiva, quindi istruzioni print successive stamperanno i valori su righe successive. Questa è una caratteristica che poi si può modificare però, quindi se dobbiamo stampare più cose diverse sulla stessa riga dovremmo metterli come argomenti della stessa print, se dovessimo stampare cose su righe diverse li mettiamo all'interno di print diverse e la seconda cosa che scopriamo, con pochissima sorpresa ma la possiamo scoprire, è che il 33 è uscito fuori dopo il ciao, vabbè bella forza, no semplicemente mi fa capire che le istruzioni vengono eseguite nell'ordine in cui sono presenti, quindi l'ordine di esecuzione delle istruzioni in Python è sempre sequenziale a meno che non introduciamo come faremo la settimana prossima delle istruzioni di controllo, dei cicli o delle alternative che sappiamo disegnare a livello di flowchart e sappiamo progettare a livello di codice ma per ora non abbiamo ancora visto come si implementano in Python ma ovviamente lo si potrà fare. Ma in assenza di istruzioni di controllo, controllo del flusso quindi scelte o iterazioni, le istruzioni vengono eseguite in ordine, dalla prima all'ultima. Io qui l'ho aperto a differenza della volta scorsa con la versione di PyCharm, community o professional, l'ho aperto per fare un po' la differenza nel modo in cui si attivano i programmi. Nella versione educational, la volta scorsa vi ricordate che sulla prima riga del programma compariva un bel triangolo verde, cliccando il quale il programma veniva eseguito. Nell'altra versione invece non compare nessun triangolo verde qui, il triangolino verde compare là in alto. E dovete solo fare attenzione perché il triangolo verde esegue, fa partire non il programma che ho aperto in questo momento ma il programma che è indicato qua in questa tendina a fianco. Per cui fate attenzione che se magari scrivete un programma all'interno di un file, poi passate a un file diverso, quando cliccate sul run lui continua a eseguire il file precedente perché non è cambiato. E quindi da qua si può cambiare qual è il file che vogliamo eseguire e poi premere run. Se per caso non comparisse questo file in questo elenco, il file su cui lavoriamo, non compare perché la prima volta non compare ancora, allora dovrò, l'altra soluzione è quella di prendere col tasto destro del mouse il nome del file che voglio eseguire e c'è anche qui una voce menu run che lo fa partire e contemporaneamente me lo inserisce in questa tendina. Se uno vuole fare cose più semplici, nelle versioni più recenti di PyCharm hanno aggiunto una cosa comodissima che si chiama current file, che fa sì che l'azione di run si applichi sempre al file che ho aperto in questo momento, quindi è più facile, non devo andare a cambiarlo ogni volta. Quindi il mio consiglio, se vi parte il programma sbagliato rispetto a quello che state scrivendo, andate a selezionare current file e così sappiamo che partirà sempre il programma che abbiamo in questo momento aperto. Ok, sulla versione educational tutto questo non c'è e semplicemente essendo il triangolo verde dentro il file sono sicuro che fa partire quello, un pochino più semplice, un pochino più immediato, ma alla fine non sono queste le difficoltà. Allora abbiamo quindi definito, giusto per ricordarci, un progetto, all'interno di questo progetto possiamo avere vari file e varie cartelle, all'interno di queste cartelle ci possono essere dei file con estensione .py che saranno i nostri programmi in Python. Solo a livello di organizzazione del corso, io tutti gli esercizi che faccio in aula li metto l'unico progetto che si chiama settimane, di cui vi potete poi dalla pagina del corso, che dovrei avere qua, alla fine di ogni settimana, come ho fatto la settimana scorsa, pubblico uno zip che contiene tutti i file di questa settimana, così ve li potete scaricare e guardare, e in ogni caso se andate dove c'è scritto materiale c'è un link che dice gli esercizi svolti in aula, sono qua in questo sito che si chiama GitHub, in cui li trovate tutti direttamente scaricabili in tempo reale, nel senso che io alla fine della lezione li salvo e compagno immediatamente qua. Li potete anche vedere, leggere senza necessariamente scaricarlo zip, scompattarlo, eccetera. Quindi io non creerò tanti progetti, ne ho creato uno grande in cui vado a mettere tutti i file che facciamo durante il corso, quindi sappiamo di trovare tutto nello stesso luogo. L'organizzazione dei progetti la decidete voi, nel senso che faccio magari oggi in laboratorio potete decidere di fare un progetto che chiamate laboratorio 1 e dentro ci fate tanti file, uno per ogni esercizio, oppure fare un progetto per ogni esercizio, dentro il quale progetto ci sarà un solo file, è indifferente. Il programma Python è contenuto in un file, in un file solo per quanto siamo in grado di fare in questo momento. abbiamo già visto che gli argomenti di questa funzione print possono essere di due tipi, testi o numeri. I testi sono scritti tra virgolette, per distinguerli dai calcoli, dai numeri. Per cui, ad esempio, se io scrivessi print, aperta tonda, tra virgolette 3 più 2, in questo caso cosa stavi facendo? Starei stampando non il risultato 5, ma tra virgolette esattamente 3, seguito dal più, seguito dal 2, qua sotto. Quindi ciò che è racchiuso tra virgolette viene appreso come un messaggio. Ciò che è fuori dalle virgolette, Python cerca di interpretarlo e calcolarlo. Tra virgolette si indicano le costanti testuali, le stringhe. Ovviamente nel caso di 33 era già un valore, non c'è nessun calcolo da fare come nel caso di 3 più 2. Ma è lo stesso, alla fine il risultato del valore dell'espressione 33 è 33. Il risultato del valore dell'espressione 3 più 2 è 5. E il risultato dell'espressione print, ciao, quale sarà? Errore. Cioè errore perché, lo dice lui, il nome ciao non è definito. Non so che cosa sia. Non è tra virgolette, per cui non stiamo parlando del messaggino ciao fatto di 4 lettere. Stiamo parlando fuori dalle virgolette e quindi lui lo interpreta come un'espressione da calcolare. La calcolo usando il valore del simbolo che si chiama ciao. Ma se quel simbolo ciao nessuno l'ha mai definito, nessuno gli ha mai dato un valore, è vero che lui come può fare. E infatti mi dà errore. Questo programma non può essere eseguito perché a un certo punto cerco di usare un simbolo che non è definito. Un simbolo che tra un po' impareremo a chiamare una variabile. In questo caso è una variabile non definita. Lui dice che un nome non è definito perché non sa neanche se questo nome si riferisce a una variabile, una funzione o altre cose. Semplicemente non sa cos'è. Che è la stessa cosa che capiterebbe se io scrivessi, come ho fatto vedere prima, al posto di print, scrivessi prunt. Allora anche lì mi dice, prima di arrivare al ciao, mi dice guarda che prunt, il nome non lo conosco. Ovviamente il linguaggio riconosce un certo vocabolario, un certo insieme di funzioni, un certo insieme di variabili che sono definite e le altre non le conosce. Quindi quando cerco di usare un nome che non esiste, mi dirà, mi darà questo messaggio. Quindi questo succede o quando sbagliamo a scrivere il nome, magari un errore di battitura di una funzione, oppure quando ci dimentichiamo di creare una variabile prima di usarla. Facciamo attenzione che la stessa cosa vale sul discorso maiuscolo e minuscolo, cioè in Python il print scritto con la P maiuscola è diverso da print scritto con la P minuscola. E quindi il print con la P maiuscola è un nome che lui non conosce. Quindi quando diamo i nomi alle funzioni o alle variabili o ai simboli, facciamo attenzione che sono distinti nei due casi. Ecco, una cosa che ci tengo è scegliete come organizzarvi il lavoro in progetti, ma ricordatevi solo dell'accordo più importante di tutte. Fatevi delle copie del vostro lavoro. Ogni tanto, giusto comparsa questa settimana qualche volantino in giro per il corrido del Politecnico, aiutatevi, sono super disperato o disperata, ho perso la chiavetta di cui c'avevo tutto il lavoro di tesi. Io non riesco ad avere tanta compassione, sono chiaramente delle situazioni disastrose, però la risposta dell'ingegnere è dovevi pensarci prima. Nel senso che le chiavette si perdono, si rompono, vi cadono nella pozzanghera, il computer può essere rubato. Oggi, crossiamo le dita, però, l'ardis si può rompere, domani cerca di accendere, lo fuma, anziché accendersi. Sono cose che succedono. È brutto buttare via, non so, mille euro di computer, ma è ancora più brutto buttare via mille ore di lavoro che ci stavano sopra. Quindi ricordatevi che un file non è mai salvato se non l'avete almeno salvato in due posti, distinti, diversi. Prendetelo proprio come abitudine, come paranoia, ok? Io quando registro le video lezioni, c'è sempre quel momento della fine della lezione quando stoppo la registrazione e non l'ho ancora caricata su un server in cui ho l'ansia, e adesso se questo file lo perdo, devo riregistrarmi, o cose del genere, no? Poi invece quando l'ho copiato su un server, questo qua poi lo carico su YouTube, eccetera, sono tranquillo perché comincio ad averne almeno quattro copie in giro. E sono tranquillo che se anche una di queste copie venisse a scomparire, venisse persa. Quindi gli esercizietti che facciamo noi di Python, tutto sommato, sono ridicoli, soprattutto per il momento. Però, mi raccomando, la cosa più importante nell'uso di un computer è sempre, o di un qualunque strumento informatico, è le copie di sicurezza. Gente che mi dice, ho perso il cellulare, ho perso tutti i contatti. Ma come tutti i contatti? Li puoi salvare nel profilo. Eh, ma no, li ho salvati solo sul telefono. Ricordatevi che dati è una parola di cui non esiste il singolare, ok? Non deve esistere, non deve essere un unico punto in cui c'è un'informazione. Questo non c'entra con il corso di informatica, ma così evitate poi di piangere quando dovesse capitare cose che capitano normalmente. Ok, dicevamo che Python ha anche un modo interattivo, l'abbiamo visto negli ultimi minuti della scorsa lezione, per cui gli esperimenti che stiamo facendo adesso con il programmino in Python, in cui provo a scrivere istruzioni e faccio run del programma per vedere cosa fanno. Tra l'altro il triangolino verde lo ritrovate anche qui. Una volta che avete fatto run la prima volta, se volete rieseguirlo la seconda volta, è già qui vicino. Però questi esperimenti, dicevamo, li possiamo anche fare in modo interattivo, attraverso quello strumento che si chiama console di Python, in cui anche qua voglio vedere cosa succede se io facessi print 2 diviso 3. Come la fa questa divisione? Allora vado a vedere, potrei modificare il programma, rifare il run, oppure eseguire direttamente la singola istruzione. In questo caso mi fa vedere che 2 diviso 3 fa qualcosa tipo 0,6 abbondante, 666, eccetera. Quindi lo useremo molto, soprattutto all'inizio, per provare le istruzioni, le proviamo in modo interattivo, così riusciamo a capire. Anche qua, se avessi print con tutto maiuscolo, mi dà lo stesso errore che mi darebbe nel programma, ma l'ho provato separatamente senza andare a incasinare, a sporcare il programma che stavo scrivendo. L'altra cosa, cosa succede se io scrivessi così? Print, aperta tonda, chiusa tonda. Stampa niente, perché non ha argomenti da stampare, e va a capo. Quindi è un modo per creare una riga vuota. Ad esempio, allora togliamo questo print ciao. Senza cancellarlo, io posso usare questo simbolo, simbolo di cancelletto, che in Python identifica i commenti all'interno del codice. Quindi tutte le volte che siete un simbolo di cancelletto, da quel punto fino alla fine della riga, qualunque cosa scriviate viene ignorata dall'interprete Python. Quindi è un commento al codice. Quindi a volte anziché cancellare le istruzioni, che poi magari vogliamo ripescare, vogliamo rivederle, le commentiamo. Commentare significa semplicemente mettergli davanti un cancelletto. Oppure per spiegare un'istruzione, io potrei mettere a fianco di un'istruzione un commento del tipo lo stampa in modo letterale, non fa i calcoli. Per spiegare cosa succede. Quindi dal simbolo di cancelletto in avanti, infatti Python se lo scrive in grigio, per dire, guarda, questo non è eseguibile, scrivici ciò che vuoi. Python non lo guarda. Ho dovuto commentare l'ultima istruzione per poter far funzionare il programma e per farvi vedere, a questo punto aggiungiamo una print vuota che mi fa vedere che nell'esecuzione di questo programma scrive la prima riga, poi la seconda, poi la terza, che sono qui, poi una riga vuota e poi l'ultimo numero, 333, che in realtà non è un numero, ma è un testo. è trappici, quindi un testo, però separato. Quindi print, dicevo, può avere uno o più argomenti, ma anche zero. Non importa, lui stampa tutto ciò che gli chiediamo di stampare e poi va a capo. Se non ha niente da stampare, non stampa niente e poi va a capo. L'altra cosa che ho fatto, quasi per istinto, senza accorgermene, vedete che io ho usato su questo numero 333 il carattere di apice singolo, mentre invece prima avevo usato il carattere di apice doppio per delimitare un frammento di testo. Ecco, in Python le due strutture sono intercambiabili. Quindi quando voi volete rappresentare una stringa di testo potete delimitarla da apici doppi oppure con apici singoli. È uguale. Ovviamente se aprite un doppio apice lo chiudete doppio, non lo chiudete singolo. è abbastanza sia per ordine che anche per logica. Quindi scegliete quello che preferite. Io tendenzialmente cerco di usare l'apice singolo perché è meno pesante agli occhi. Quando leggo il codice del doppio è più pesante. Ma è solo una questione di preferenze personali. Dal punto di vista del linguaggio non fa nessuna differenza. Ok. Queste sono le quattro cose base che sono comune ai vari programmini. La funzione, l'uso di una funzione però la conosciamo solamente dalla funzione print. Abbiamo visto che in Python si può lavorare molto facilmente con delle stringhe di testo racchiudendole tra apici singoli e apici doppi. E in questo caso le chiameremo appunto valori di tipo stringa. Stringa è sinonimo di testo. Un frammento di testo. Poi questo testo può contenere delle lettere. Questo testo può contenere degli spazi. Questo testo può contenere delle cifre, dei numeri. questo qua dicevo è una stringa di testo che contiene tre simboli che sono cifre numeriche ma non sono trattate come un numero non è 333 è il carattere disegnato alla forma di 3 poi il carattere disegnato con la forma di 3 e l'altro il carattere disegnato con la forma di 3. Non ci posso fare dei calcoli su questo testo. Vedremo poi meglio quando vediamo gli operatori delle espressioni che cosa posso fare con i numeri e che cosa posso fare con le stringhe. la funzione print la possiamo già usare come una sorta di semplice rudimentale calcolatrice se gli do un'espressione tra parentesi lei calcola il valore dell'espressione quando ho fatto 2 diviso 3 e mi stampa il valore. Non dovremmo imparare Python solo per riuscire a fare questi quattro calcoli però è una possibilità. Ovviamente l'espressione che gli diamo dovrà essere un'espressione che ha senso dal punto di vista aritmetico quindi con l'operazione più o meno per diviso eventualmente se sono le parenti deve essere scritta bene ma questo è abbastanza facile e abbiamo già visto che nello scrivere programmi anche idioti di una riga possiamo fare errori errori di vario tipo abbiamo visto che i più semplici sono gli errori di sintassi ho messo ho messo la maiuscola postura minuscola dimentico di chiudere la parentesi dimentico di chiudere gli apici o altro questi normalmente sono errori che già ci vengono segnalati da PyCharm col simbolo rosso se ne accorgo già lui prima ma se non ci volessi credere e facessi run il programma non parte perché quando interpreta Python lo legge dice qua c'è qualcosa che non capisco oppure ci sono e questi sono gli errori a tempo di lettura a tempo di compilazione quando il programma cerco di avviarlo lui non si avvia neppure questo notiamo una cosa quando io provo a eseguire questo programma che ovviamente ha l'errore perché ciao è un nome non definito no non è quello che volevo dire scusate niente lo vediamo dopo non è un esempio giusto lo riprendo dopo scusate oppure quindi questi sono gli errori facili ci vengono segnalati immediatamente oppure gli errori logici no? ad esempio quindi abbiamo forse ne abbiamo fatto uno quando abbiamo scritto questa cosa qua tra apici magari volevamo calcolare 3 più 2 e abbiamo sbagliato perché abbiamo rappresentato un valore come testo e non come numero allora è perfettamente legito voler stampare 3 più 2 come testo ma magari in mente o ciò che ci serviva come programma era invece calcolare il valore insomma e questo è un errore nostro che nessun compilatore Python nessun ambiente di sviluppo mi potrà mai segnalare perché sto facendo una cosa sbagliata al posto di un'altra cosa giusta ma entrambe sono sintaticamente corrette entrambe sono programmi leciti corretti dal punto di vista del linguaggio scorretti dal punto di vista dell'obiettivo che raggiungono e del risultato che ottengono se ci sono errori logici non c'è quasi nulla che ci aiuta impareremo più avanti a usare uno strumento che si chiama di debugging che ci permette di ispezionare cosa sta facendo il programma per cercare di capire magari perché sta sbagliando ma su programmi semplici così non vale ancora la pena ok allora con l'istruzione sulla print e con 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 solamente la possibilità di inserire dei numeri dell'espressione delle stringhe non possiamo fare molto di più perché di fatto i nostri programmi finora stampano cose che sapevo già ok per fare in modo che un programma sia utile deve poter lavorare non solamente con testi o numeri fissi ma anche con testi numeri variabili che variano di volta in volta avere un programma che tutte le volte stampa 5 può essere divertentissimo le prime 300 400 volte ma poi dici vabbè capito ma invece avere un programma che ogni volta risolve il problema che gli è stato dato con dei parametri diversi è ciò che lo rende utile allora impariamo come sono gestite i valori e le variabili all'interno di Python quindi arricchiremo la possibilità anche di di memorizzare dei valori non solamente di stamparli noi partiamo da due tipologie di valori le più semplici poi più avanti ne impareremo delle altre che sono le abbiamo già viste in realtà i numeri e le stringhe a differenza di altri linguaggi di programmazione dove le stringhe sono una cosa più complicata da usare in Python usare le stringhe è quasi più facile che usare i numeri quindi ha già un tipo di dato predefinito del linguaggio e si può usare confrontare sto pensando al C in un modo molto più intuitivo quindi lo possiamo affrontare fin da subito ok partiamo da il concetto di variabili la variabile è un nome che usiamo per memorizzare un valore cioè se io voglio calcolare un'espressione che dipende da certi valori potrei prendiamo un altro esempio esempietto facciamo un nuovo file e lo chiamiamo facciamo una cosa stupida una media di due numeri chiamiamo il numero A 7 il numero B 10 e vogliamo calcolare stampare facciamo una cosa più semplice stampiamo A e B cosa stiamo facendo qua allora attenzione A e B non sono tra virgolette sono fuori delle virgolette quindi vengono interpretati come dei valori valori che però questa volta anziché darci un errore nome non definito il nome A l'abbiamo definito sopra e l'abbiamo associato il valore 7 il nome B l'abbiamo definito prima adesso usiamo il termine corretto abbiamo definito una variabile con nome B e valore 10 quindi questa istruzione print stamperà il valore di questa espressione che contiene il nome A che fa riferimento a una variabile il cui valore è 7 frase lunga per dire stampa 7 e poi farò la stessa cosa con B quindi mi stampo sotto 7 e 10 e se io stampassi A più 1 mi stamperebbe 8 e 10 nessuna sorpresa lui calcola un'espressione in questo caso la somma all'interno di questa espressione possono esserci delle costanti dei numeri ma possono esserci anche delle variabili il cui valore viene usato all'interno di quell'espressione python non fa i calcoli simbolici fa i calcoli con i valori ok non conosce l'algebra conosce l'aritmetica quindi A più 1 non è un binomio A più 1 ma è il valore che ha in questo momento che è un numero che per comodità chiamo A e non chiamo 7 perché per comodità lo chiamo A perché magari tra un po' non è più 7 è 5 perché cambiano le specifiche del problema e allora voglio che il programma si comporti correttamente anche se cambia il valore di una delle sue variabili ma a livello del linguaggio cosa sta succedendo quando ho scritto A uguale 7 che io sto definendo due cose e in Python sono separate un nome una variabile che ha un nome e un valore da associare a quella variabile quando io scrivo 7 ho creato un valore il valore esiste indipendentemente dal fatto che sia attribuito alla variabile A alla variabile B o a nessuna variabile se voglio posso creare una variabile quindi da avere crearmi un nome che faccia riferimento a quel valore quindi posso andarmi a ripescare quel valore ogni volta che mi serve cerchiamo di acquisire questo modello mentale che per chi non ha mai visto un linguaggio di programmazione va bene per chi è abituato a pensare in C o in Java avere un modello mentale diverso vi hanno detto che una variabile è una scatola che contiene il valore dentro qui no se pensate che una variabile sia una scatola che contenga il valore quando facciamo strutture atti più complesse sbarrellate perché non funziona così in questo modo in Python che è molto più simile agli oggetti in Java che non alle variabili primitive in C quindi la variabile è semplicemente un nome che uso per ricordarmi dove ho scritto un certo valore vedete che la variabile ha una frecciolina io l'ho indicata così l'area è una variabile il cui valore in questa frecciolina il cui valore in questo momento è 24 cioè non toglie che questa variabile tra un attimo possa avere un valore diverso posso cambiare questo valore quando voglio il valore che in questo momento è attribuito a una variabile può essere un valore numerico in questo caso un numero intero può essere un numero reale può essere una stringa in Python ogni valore ha un suo tipo tipo numerico intero tipo numerico reale tipo stringa sono i tipi che conosciamo finora una variabile non ha un tipo ha semplicemente un nome questo l'inizio può stupire perché la stessa variabile può essere associata in momenti diversi a valori dei tipi diversi adesso vediamo qualche esempio quindi quando io definisco una variabile lo definisco in un modo molto naturale nome uguale valore e sto dicendo all'interprete Python di fare tre cose creami un valore che è ciò che trovi alla destra dell'uguale creami una variabile il cui nome è quello che c'è a sinistra dell'uguale e collegali cioè l'uguale stesso fa questa operazione fa in modo che questa variabile sia associata faccia riferimento a quel valore la prima volta che io uso una variabile in un'istruzione di questo genere sto definendo una variabile cioè sto creando il nome la definizione di una variabile significa la creazione di un nuovo nome e sto inizializzando questa variabile con un valore ben preciso gli sto dando un primo valore che poi potrò cambiare dopo perché se no non si chiamerebbe variabile se non potesse cambiare ma nel momento in cui la creo sono obbligato a dargli un valore iniziale in Python non esistono variabili non inizializzate che sono il bal di pancia in tanti altri linguaggi variabile che ho creato ma non so ancora che valore abbia no in Python quando creo una variabile sono obbligato ad assegnarci un valore iniziale definizione cioè creo un nuovo nome inizializzazione cioè associo a questo nuovo nome un valore iniziale e se voglio cambiare questo valore come faccio e riuso un'istruzione che ha praticamente la stessa sintassi nome uguale valore con la differenza che questo nome l'ho già visto Python lo conosce già quindi non deve creare una nuova variabile di tipo lattine semplicemente ridefinisce riassegna la variabile che già esiste quindi come se io avessi la variabile a che puntava a 7 poi scrivo a uguale 5 allora a questo punto la frecciolina che andava a 7 la sposto la faccio andare verso un valore 5 ho creato un nuovo valore e ci faccio arrivare questa variabile quindi la stessa sintassi simbolo di uguale con la sinistra con la sinistra un nome e a destra un valore serve a due cose creare una nuova variabile e dargli il valore iniziale oppure aggiornare modificare il valore di una variabile che è già stata creata quando io segno un valore una variabile il valore precedente sparisce nel nulla non è più raggiungibile non è più a meno che non me lo sia salvato in una terza variabile o in una seconda variabile scusate qui c'è una sola non lo posso più raggiungerlo ho perso in un certo senso sostituisco al valore vecchio il valore nuovo queste cose le vediamo bene su questo sito qua che si chiama python tutor dove dobbiamo ovviamente dire python in cui vediamo proprio quando io scrivo del codice mi fa vedere il programma che ho scritto mi fa vedere le istruzioni che sta per eseguire e posso andare avanti passo passo ad eseguire le singole istruzioni la freccia rossa vuol dire istruzione che devo eseguire la riga verde vuol dire istruzione che ho appena eseguito in questo caso c'è un'istruzione sola mi fa vedere che quando io inizializzo A uguale 7 ha definito un simbolo A un valore 7 e ha associato fatto sì che A la parola corretta facesse riferimento al valore 7 poi a volte per accorciare la frase diciamo A punta al valore 7 se io facessi a questo punto vado a modificare il programma scrivo B uguale 4 e poi posso scrivere C uguale A più B e poi posso fare D uguale ad A vediamo un attimo queste cose D uguale Sì ad A va bene allora cosa stiamo facendo la prima istruzione A uguale 7 crea una variabile che si chiama A l'abbiamo già visto la seconda istruzione creerà un'altra variabile che si chiama B e che punterà un valore nuovo che è il valore 4 la terza istruzione C uguale A più B che cosa fa? vabbè applica la stessa regola di prima C è un simbolo che abbiamo già visto? no quindi ne crea uno nuovo e gli assegna un valore iniziale qual è il valore iniziale? beh sarà il valore che trovo alla destra del simbolo uguale alla destra del simbolo uguale che cosa trovo? trovo un'espressione aritmetica una somma di che cosa? di A che è una variabile il cui valore attualmente è 7 e B che è un'altra variabile il cui valore attualmente è 4 quindi se non cambiate il modo di cui funziona il mondo adesso dovremmo avere C che vale 11 quindi l'ordine in cui avvengono le operazioni è sempre lo stesso se ho delle variabili prima di tutto vado a vedere quanto valgono in quel momento quindi qual è il valore a cui fanno riferimento quelle variabili in quell'istante e sostituisco alla variabile il suo valore se ho un'espressione da calcolare calcolo l'espressione usando i valori numerici e questo diventa il valore finale che ho creato da associare alla variabile dopo che C uguale 11 C non si ricorda che arriva da A più B adesso lo vediamo quando io scrivo non confondete l'ora nell'ora precedente se vi avesse scritto C uguale A più B e poi avessi modificato il programma fatemi tornare su scrivendo qua A uguale non più 7 ma 99 una variabile in matematica crea una relazione persistente tra queste variabili se hai il simbolo di uguale è un simbolo fortissimo in matematica dice voi siete uno e una sola cosa peggio di un matrimonio in linguaggio di programmazione invece l'uguale è semplicemente senti prenditi questo valore adesso finché dura ok quindi quando io ho scritto C uguale A più B C ha semplicemente assunto un valore che è il risultato di un'espressione calcolata in quel momento con quei valori delle variabili se io eseguissi a questo punto l'istruzione A uguale a 99 ad A capita qualcosa sicuramente non è più vero che A punta a 7 il valore 7 scompare comparirà un valore 99 che ho creato qua e A farà riferimento a 99 ma la variabile C non si accorge di nulla non diventa 99 più 4 103 rimane 11 ok per questo quando io spiegavo cosa fa A più B avrò detto 64 volte il valore che ha la variabile in quel momento nel momento in cui viene eseguita quell'istruzione non mi importa del valore che aveva prima o che avrà dopo mi importa solo il valore che aveva nel momento in cui viene come si dice in gergo valutata quell'espressione cioè viene convertita da un'espressione al valore numerico corrispondente e giustamente B continua a valere 4 C continua a valere 11 e A invece a questo punto punta a un valore nuovo che prima non c'era 99 e quindi anche l'istruzione D uguale A ci fa meno paura guardate cosa fa D uguale A D uguale A prende il valore che aveva che esiste già questo valore e dice che crea una nuova variabile D inizializzando questa nuova variabile al valore a quel 99 che arrivava ad A quindi si vede che sia A che B che D scusate in questo momento condividono lo stesso valore sono due nomi diversi dello stesso valore sono dei sinonimi in qualche modo più avanti li chiameremo degli alias nomi diversi per indicare la stessa cosa lo stesso valore non c'è un 99 e un altro 99 è un 99 unico che in quel momento ha due nomi o in quel momento perché se un attimo dopo io decidessi di scrivere A uguale a più 1 A uguale a più 1 ricordiamoci che se fosse un'espressione matematica sarebbe un'eresia qui vuole semplicemente dire senti A deve stare cosa è l'uguale cos'è un'espressione ok cos'è una somma di che cosa di A quanto vale A in questo momento 99 ok l'altro addendo della somma è un 1 vabbè farà 100 allora la somma cosa me ne faccio di questo 100 ah lo assegno da lo assegno da scorciatoia linguistica per dire faccio in modo che A venga aggiornata e faccia riferimento a questo nuovo valore 100 quindi la sinonimia tra D e A è durata poco in questo momento D e A sono due nomi alternativi per puntare lo stesso valore 99 poi ne ho cambiato uno dei due e va bene l'altro continua a puntare a 99 il 99 non è scomparso no prima il 7 era scomparso perché ho modificato l'unica variabile che puntava al 7 quindi in questo caso ho modificato A che puntava al 99 ma il 99 non è scomparso perché c'era un'altra variabile che si ricordava di quel valore questo è il meccanismo che Python Tutor ci aiuta a visualizzare molto bene con cui funzionano le variabili in Python meccanismo molto semplice tra l'altro un'altra cosa organizzativa che non vi ho detto quando vedete nelle slide questo simbolo vuol dire che fare un riferimento a un esempio che c'è scaricabile insieme alle slide c'è un file esempi.zip o qualcosa di questo genere in cui ci sono tutti gli esempi delle singole lezioni quindi i file che sono citati nelle slide li potete trovare e provarvi per quanto vostro va bene qui guardando le cose che non abbiamo detto per poterle rivedere allora questo meccanismo appunto molto semplice è valido in generale quando io ho detto creo un valore e lo assegno in una variabile un valore può essere un valore numerico ma può anche essere un valore di tipo stringa e questo funzionerà ovviamente nello stesso modo io adesso vado dal fine quindi una variabile vedete che a fianco noi non l'abbiamo notato finora non ci abbiamo fatto caso a fianco di questi numeri c'è scritto int per indicare che questo è un valore di tipo numerico intero numero intero invece qua c'è indicata una str che indica che questo valore è un valore di tipo stringa quindi la variabile saluto in questo momento sta puntando sta facendo riferimento a un valore di tipo stringa che vale ciao il tipo ogni dato in python ha sempre un tipo il tipo è associato al valore quindi la parte destra della figura e mai alla variabile questo vuol dire che può stupire un po' all'inizio che se noi volessimo potremmo anche violentare la nostra variabile a e a un certo punto farla diventare una stringa cioè fare in modo che quando arrivo a questo punto a era un tranquillo 100 ma adesso decido che ho e vale la stessa regola di sempre creo un nuovo valore valutando l'espressione che sta alla destra dell'uguale che in questo caso è un'espressione di tipo stringa e faccio in modo che il nome a punti al nuovo valore un pochino ci può stupire perché a fino ad adesso era un numero valeva un valore numerico e adesso è una stringa sempre a quindi chi arriva da linguaggi di programmazione diversi un pochino si preoccupa o si stupisce e dice ma come la stessa variabile a un certo punto è un po' una stringa un po' un intero sì è ovvio che per nostra comodità se la variabile ha un senso nel nostro programma nasce come numero e continuerà come numero oppure nasce come testo e continuerà come testo se serve a qualcosa a rappresentare qualche informazione però il linguaggio non impone nessun vincolo di questo genere c'è una domanda dimmi no no lui l'esempio che sta facendo lui ripeto la domanda anche per la registrazione lui sta dicendo se io scrivo una cosa di questo genere vabbè arriviamo ci arriviamo dopo questa è una funzione che non abbiamo ancora visto è una funzione che in questo caso prende un numero intero e restituisce un numero reale però lui prima sempre calcola l'espressione in questo caso il valore di questa espressione è un numero reale quindi di tipo float e non int e lo memorizza in quella variabile quella variabile adesso punta a un valore reale un attimo fa puntava a un valore intero qui non c'è modo di costringere una variabile a dire tu devi sempre solo puntare a valori interi quello che conta è il valore che è per quello che dovete cercare di non pensare che il valore venga messo dentro la variabile perché nella stessa scatola non posso mettere cose di tipo diverso invece il valore non è dentro la variabile è indicato dalla variabile attraverso questa freccia è un modello mentale che dopo un po' ci entra in testa e ci aiuta a ragionare così ma non è non è complesso anzi è molto più semplice di altri di altri tipi di modelli semplicemente Python si comporta in questo modo un po' particolare questo modello un po' particolare che ci darà non dico fastidio neanche filo da torcere ma ci darà un pochino da pensare quando faremo strutture dati più complesse quindi valori che contengono più dati al loro interno allora dovremo ritornare su questi disegnini e capire meglio che cosa succede nel frattempo per i programmi che facciamo per le prime settimane non non ci preoccupa particolarmente però ci tengo a impostare subito il modello mentale corretto così poi quando sarà l'ora di riprenderlo non dobbiamo cambiare dei pensieri sbagliati l'altra cosa da ricordare anche non confondersi che in Python il segno uguale è sempre un simbolo di assegnazione quindi creo un nuovo valore e non è un confronto in matematica l'uguale può anche essere un confronto è vero che A è uguale a 7 in Python il simbolo di confronto è diverso si scrive col doppio uguale 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 se vogliamo fare i confronti quindi ce ne accorgeremo non dobbiamo confondere i due simboli l'uguale nel senso di trasferirci un valore assegna una variabile inizializza una variabile oppure l'uguale nel senso di confronta questi due valori e dimmi se sono uguali oppure no ma lo vedremo più avanti quando vedremo i condizionali qui le slide ci chiedono di provare a fare un esempio un esercizietto dice ci sono delle bevande analcoliche che sono vendute in birra e in bottiglia un negozio ne offre una confezione di 6 lattine da 12 once allo stesso prezzo di una bottiglia da 2 litri quale conviene comprare? è già uno che si fa queste domande e non si è svegliato bene al mattino ma potenziamo di voler rispondere qui semplicemente si tratta di fare due conti allora lui mi dice che una bottiglia da 2 litri ha un certo prezzo che non mi dice quant'è e una confezione di 6 lattine da 12 once ha lo stesso prezzo in realtà questa domanda mi sta chiedendo quanti litri sono 6 lattine da 12 once perché se 6 lattine da 12 once contiene più di 2 litri allora convengono le lattine visto che il prezzo è lo stesso della bottiglia da 2 litri se invece è meno di 2 litri conviene la bottiglia visto che costa uguale e ce ne sta di più ok quindi questo è un esercizio che ti fa una domanda semplice ma lo fa in modo un pochino contorto se noi vogliamo risolvere questo esercizio possiamo ragionarci quindi io creo un nuovo file python che chiamo lattine e di nuovo parto dall'analisi del problema parto scrivendo lo pseudocodice o il diagrammino di flusso o uno schizzo dei calcoli che devo fare quindi i miei dati sono che una lattina contiene quanti sono? 12 once 12 once e chi ce l'ha mai fatto fare di usare le once per misurare le lattine e mi dice anche che un'oncia liquida sono c'è scritto nella slide 0,355 litri quindi la domanda a cui devo rispondere che non c'è scritta nel testo è già il risultato del mio ragionamento è qual è la capacità totale di 6 lattine sarà più o meno di 2 litri e questo è il mio ragionamento per non avere posti diversi io per abitudine il ragionamento i passaggi l'opseudo codice lo scrivo direttamente nel file python sotto forma di commenti così una volta che l'opseudo codice è scritto come commenti poi ci vado a infilare il codice vero tra un commento e l'altro e il programma fatto, finito e commentato quindi io normalmente prima scrivo i commenti e poi traduco l'intenzione che ho scritto nei commenti in codice perché in realtà se voi scrivete prima il codice magari perdete il filo e poi di sicuro non vi mettete ad aggiungere i commenti dopo allora questa era quella che avevamo chiamato strategia per risolvere il problema alla fine dobbiamo calcolare la capacità totale di 6 lattine che non è la domanda che viene fatta nel testo è già il risultato della nostra analisi senza niente con l'informatica solo ragionamento finora adesso ok se devo calcolare questo dovrò calcolare la capacità totale quindi la capacità totale sarà uguale alla capacità di una lattina per numero di lattine ok quindi però in litri se no ottengo la capacità in once e non ci faccio nulla quindi dovrò esprimere la capacità di una lattina in litri quindi cosa è la capacità di una lattina in litri capacità di una lattina in litri è uguale cosa sarà uguale dice che un'once sono 0,355 litri sarà uguale alla capacità in once per o diviso per giusto sì e il numero di lattine sono 6 quindi la capacità in once ce l'ho è 12 numero di lattine ce l'ho sono 6 dimmi hai domande difficili allora 12 once 0,2355 litri quindi sono 12 hai ragione non è una e quindi sta roba qua è diviso 12 così capacità in once allora il fattore di conversione è 0,355 diviso 12 perché un'oncia non sarà 0,3 litri ma sarà un dodicesimo perché ci servono 12 once per fare 0,3 litri se la no? ho sbagliato? lasciate perdere che non confondiamoci che questo è anche 12 questo 12 questo 12 e questo 12 sono due cose diverse giusto? questo 12 è la capienza di una singola lattina potremmo avere le lattine jumbo che sono da 18 ma questo non cambia il fattore di conversione da once a litri che è 0,3 litri ogni 12 once quindi prendiamo il fattore di conversione pulito data un'oncia quanti litri sono? allora proporzione la quarta elementare se 12 once sono 0,3 litri un'oncia sarà un dodicesimo di 0,3 litri e già qua abbiamo imparato una cosa che 12 non è uguale a 12 grazie al mio errore che non ho fatto apposta ma è venuto bene cioè è sempre 12 ma ha un significato diverso quindi noi quando domani leggeremo questo programma e ci sarebbero dimenticati tutto torniamo a leggere il programma vediamo 12 quadri e 12 là e il ragionamento che abbiamo fatto in questo momento dicendo guarda che quei due valori hanno un significato diverso ce lo perdiamo allora dovremmo nello scrivere il programma anche aiutarci a ricordare il significato dei valori perché un numero da solo non vuol dire nulla ok allora magari proviamo proprio solo scrivere fattore di conversione da 11 a litri litri e dai TRI è uguale a questo e allora questo sarà così quindi quindi non moltiplico per un numero in informatica le chiamo numeri magici a un certo punto dentro il codice moltiplica per 34 e cos'è il significato di quei 34 esplicitiamo il significato poi tanto al programma lui ci mette il numero e fa i calcoli col numero ma è a me programmatore che serve capire cosa sto facendo dimmi ah tu sai cose che io non so allora no lui sta dicendo lo ripeto solo per la registrazione non perché lui sta dicendo ma scusa ti complichi la vita perché se sai che 12 onci sono 0,3 litri ogni lattina sarà 0,3 litri e fin qua è giusto non sono tanto d'accordo con il resto della sua frase che dice perché tanto lo sappiamo già che 12 onci sono esattamente la capacità di una lattina quindi tu stai dicendo che questo 12 sarà sempre uguale a questo 12 è vero in questo specifico esercizio se un domani ok mi dicessero modifica il programma perché abbiamo delle lattine più piccole perché sai come fa il supermercato non aumentano i prezzi ma diminuiscono le lattine allora non è più vera questa uguaglianza e se tu hai fatto un programma che desse per scontato che 12 qua e 12 là fosse lo stesso numero quel programma non è più adatto dovresti ripensarlo ok quindi sono due valori che coincidono ma hanno significato fisico diverso e quindi conviene trattarli in modo separato questa è una costante dell'unità di misura quel 12 che è stato qua è stata descritta in un modo strampalato però ci siamo beccati così l'altro invece è una caratteristica dell'input in certo senso delle lattine che abbiamo ok quindi potrebbero in questo caso sono uguali ma in evoluzioni future di questo programma potrebbero non essere più uguali allora io preferisco tenere le separate esempio un'assicurazione sul mio futuro stiamo facendo tutta una storia su una moltiplicazione no ma in realtà qualche conto è il ragionamento che sta dietro allora questo è pseudocodice adesso dovremo tradurre questo pseudocodice in un programma python se siamo convinti che sia giusto no che programma scemo però un pochino di mal di testa questa divisione per 12 ce la sta dando no ma è giusto e qui siamo fortunati perché essendo in tanti se siete tutti convinti che sia giusto mi rincuorate un pochino e penso anch'io che lo sia allora traduciamolo questo finora se io faccio run una figata non fa niente programma finito perfetto però non fa quello che deve fare sono solo commenti mettiamoci delle istruzioni vere e proprie questi sono solo ragionamenti questo è lo pseudocodice quindi io dico ok capacità e nonce numero di lattine anziché usare nel programma i numeri e beh associamo un nome a questi numeri così sono più facili da ricordare quindi posso chiamarla capacità lattina uguale 12 12 cosa 11 però 11 lo metto come commento perché in python i valori sono solo numeri non sono numeri con unità di misura associata ci sono librerie per farlo ma nella libreria standard le unità di misura non ci sono non sono gestite io come l'ho scritto questo capacità lattina ho dovuto tener conto del fatto che quando do il nome a una variabile devo seguire certe regole ad esempio il nome di una variabile non può contenere degli spazi così e allora al posto degli spazi posso mettere il carattere di sottolineatura per convenzione oppure non metto niente si è tutto appiccicato va bene lo stesso per leggibilità normalmente dove ci andrebbe uno spazio si mette un trattino attenzione che il carattere di sottolineatura non è il meno non è il trattino trattino essendo un simbolo usato per la sottrazione non lo posso usare nei nomi di una variabile ma allora cosa posso usare nei nomi di una variabile nei nomi di una variabile posso usare lettere numeri e simbolo di sottolineatura essenzialmente più qualche altro simbolo che non abbia nessun altro significato in python ma sono rari lettere numeri e carattere di sottolineatura purché il primo carattere non sia un numero per dire la variabile a3 la posso definire la variabile 3a no 3a non è un nome lecito di variabili perché python vedendo il 3 pensa che è quello debba essere un numero e 3a non è un numero valido mentre invece se inizia con una lettera lui dice ok questa è una variabile che all'interno del suo nome contiene anche la cifra 3 ma ci sta quindi qua quello che dicevamo sto traducendo da pseudocodice a codice e per farlo ho bisogno di conoscere le regole della sintassi qual è un nome legittimo qual è un nome legittimo per una variabile che bisogna usare l'uguale tra la variabile e il valore regolette che stiamo imparando numero lattine uguale 6 poi in giro a volte provi gente che scriverebbe così che va bene sintaticamente è perfetto gente che probabilmente ogni volta che scrive una lettera paga 10 centesimi perché non si vede perché debba abbreviare si debba abbreviare così nel senso che adesso che stiamo è un'ora che stiamo ragionando su questo esercizio ci è chiaro esattamente che sono questi due valori ma veramente chiudete gli occhi li riaprite fate intervallo tornate cos'è CL cosa vuoi già dire? e allora diventa più difficile da leggere il programma da correggere e anche quando facciamo le espressioni sotto da verificare quindi non c'è nessun valore nell'abbreviare eccessivamente i nomi vabbè poi non possiamo neanche scrivere dei nomi che siano lunghi due righe troviamo una via di mezzo che non sia troppo prolissa ma allo stesso tempo mi dia la possibilità di capire esattamente che cosa rappresenta il valore assunto da quella variabile fattore di conversione è qui la stessa cosa conversione da 11 a litri uguale 0.355 diviso 12 dove il simbolo di divisione ovviamente usa la sbarra non i due punti anzi a questo punto ok mi converrà questa variabile chiamarla capacità lattina once perché poi subito dopo posso chiamarle posso creare una variabile capacità lattina litri uguale capacità lattina in once moltiplicato conversione oncelite vedete che mentre scriviamo il codice PyCharm ci anticipa e cerca di offrirci già l'autocompletamento delle variabili sulla base di quelle che sono state definite e sfruttatelo perché così evitate di fare piccoli errori di battitura se vi scriveste il nome per intero soprattutto se sono nomi un po' lunghi a volte scappa il carattere in più il carattere in meno con l'autocompletamento sei sicuro di prendere esattamente lo stesso nome tra l'altro l'altro piccolo dettaglio è che quando tu col mouse stai dentro una variabile lui ti colora tutti gli altri punti nel codice in cui quella variabile è stata usata quindi puoi andare a vedere questa qui la uso qua ma lo definisco là in rosa mi fa vedere la punto di definizione in lilla mi fa vedere il punto di utilizzo ad esempio il numero attine lo definite ma non è usata ancora da nessuna parte e quindi alla fine abbiamo che la capacità totale uguale capacità lattine in litri moltiplicato il numero di lattine se tutto va bene allora a questo punto posso dire che le lattine complessivamente contengono capacità totale litri perché se non faccio questa print in fondo il programma calcola quel valore e se lo tiene per sé e subito dopo lo dimentica quando il programma termina lui dice va bene ho fatto non devo solo calcolare ma anche mostrare all'utente l'output e in questo caso mi dice che le lattine complessivamente contengono 2,13 litri qui noi concludiamo che se è vero che 6 lattine costano come una bottiglia da 2 litri sia più conveniente comprare 6 lattine ammesso che i conti che abbiamo fatto siano giusti che il programma sia corretto dimmi ma su python la domanda era sulle virgolette su python io posso scrivere questo con le doppi apici o con i singoli apici è assolutamente indifferente questi sono assolutamente equivalenti magari ricordate che in C o in Java i doppi apici contengono le stringhe e i singoli apici contengono i caratteri ecco in python non esiste il tipo caratteri esiste solo il tipo stringa e si può rappresentare indifferentemente se io ho ovviamente quando ho fatto la stampa gli apici non vengono stampati viene solo stampato il contenuto dentro questo può essere comodo ad esempio se io voglio stampare qualche cosa ad esempio le lattine di oggi di apostrofo oggi se ho una stringa delimitata da apici doppi l'apice singolo ci può stare e non dà fastidio se io invece provassi a scrivere le lattine d'oggi così dentro una stringa che ho scelto di delimitare con un apice singolo python dice ok la stringa inizia qua finisce qui e il resto cos'è? allora in questo caso avendo la possibilità di scegliere una forma oppure l'altra a seconda di che cosa contiene la stringa posso giocarmela cosa ho fatto? togliti però è semplicemente una convenzione di scrittura non cambia nulla in termini di significato dicevo questo potrebbe essere giusto o sbagliato in realtà dovremmo avere ma dovremmo verificarlo questo programma purtroppo non ha degli impi non si può fare funzionare in modo diverso quindi l'unico modo per verificare se sia corretto è magari provarsi a fare i conti a mano però potremmo fare in modo che questo programma quando impareremo la settimana prossima a leggere i dati dall'utente dalla tastiera a fare operazione di input questi dati capacità in lattine soprattutto il numero di lattine possa essere un dato in input che quindi possiamo provare magari a vedere quante lattine qual è il numero minimo massimo di lattine per cui conviene o non conviene lo scambio con la bottiglia di queste ok di queste variabili ce ne sono alcune un po' particolari come ad esempio questa allora questa è una variabile come tutte le altre ha un certo valore che noi tra l'altro non sappiamo quale sia il nostro programma non lo sta stampando lo sta usando sotto ma il valore effettivamente di questo fattore di conversione non ce ne fraga niente se il programma funziona basta che lo calcoli giusto ma questo l'abbiamo chiamata variabile ma non è che sia variabile cioè non deve variare quello lì è un fattore di conversione fisso come dire pi greco è un numero quello lì è ok quindi più che una variabile questa dovremmo trattarla come una costante cioè una variabile che una volta che è stata creata e inizializzata non dovrebbe più essere modificata o riassegnata ok in python non esistono le costanti in alcuni linguaggi posso dichiarare delle variabili dicendo ok questo ha questo valore e non ti lascio proprio modificarlo nel senso che se c'è che di modificarlo ti dà errore di sintassi in python non c'è questo non c'è modo di dichiarare una variabile e dire esplicitamente ha questo valore e non permettermi neanche per sbaglio di modificarla vabbè hanno deciso così allora per aiutarci come programmatori a riconoscere quali variabili sono effettivamente variabili nel senso che in esecuzioni diverse del programma potrebbero assumere dei valori diversi perché magari cambia il numero di lattine o cambia la dimensione delle lattine rispetto a quelle che sono veramente costanti perché c'è un motivo per cui quel valore sia fisso e non ha senso che vari la convenzione è che per le costanti le scriviamo tutte in maiuscolo quindi conversione once litri scriveremo in realtà conversione once litri come avevamo già visto prima sulla print maiuscole e minuscole fanno la differenza non è la stessa cosa quindi una variabile scritta in maiuscolo e una variabile scritta in minuscolo sono due variabili diverse infatti adesso quando io ho scritto in maiuscola qua lì si è arrabbiato sotto dicendo ma questa qui non è definita certo che non è definita perché l'ho cambiata allora fammi fare copia e incolla e adesso sei contento allora è solamente una convenzione grafica quando io definisco mi verrebbe da dire definisco una costante ma in python non si può allora definisco una variabile che non intendo modificare o che secondo me non deve essere modificata la scrivo in maiuscolo mentre invece le variabili che possono cambiare perché magari sono dei dati in input come questi o sono dei risultati intermedi dei calcoli allora normalmente uso per convenzione le lettere minuscole soprattutto convenzioni vediamo che questo programma qua alla fine fa solo una moltiplicazione in tutto ma abbiamo fatto molta attenzione alla leggibilità alla comprensibilità del codice non tanto l'operazione che deve fare certo che la fa però ci stiamo dando degli accorgimenti per poter gestire quella combinazione quel caso la situazione che vi ho detto due volte fa in cui i programmi che scriviamo il nostro cervello non ha mai la capacità di comprendere tutti insieme e qui ci dobbiamo dare degli strumenti per aiutarci a seguirli a comprendere seguirli nel ragionamento quando i programmi diventeranno più complicati adesso sembra esagerata questa sembra quasi pedanteria nel ragionamento che stiamo facendo su un esempio così semplice ma ci tornerà utile più avanti noi abbiamo usato delle variabili senza quasi faccia attenzione alcune numeriche alcune intere e altre invece cosiddette reali quando mi ha scritto 12 12 è un numero intero quando mi ha scritto 6 è un numero intero quando mi ha scritto questa cosa qua proviamo a prendere queste tre righe e mettere dentro python tutor se lo trovo ancora qui se eseguo questo codice mi fa vedere che la capacità in 11 12 è un intero questo è un intero e questo è un numero reale abbiamo visto qual è questa famosa fattore di conversione in python i numeri reali sono indicati dal tipo di dati che si chiama float float è l'abbreviazione di floating point number dove si chiama floating point per il modo in cui è codificato in binario lo vedremo più avanti in una delle lezioni di teoria per ora consideriamo che float vuol dire numero reale numero che può avere una parte frazionaria a differenza di un int che può solo contenere valori reali questa operazione che abbiamo fatto qui ha fatto la divisione tra 0,355 che è un numero reale e 12 che è un numero intero sono due costanti non c'entrano le variabili solamente abbiamo fatto un calcolo tra due costanti tra due numeri espliciti uno di tipo float l'altro di tipo int il risultato che è saltato fuori che poi è il risultato che abbiamo messo dentro la variabile conversione da 11 a litri è stato float questo vuol dire che python conosce anche un pochino di regolette dell'aritmetica per cui quando fa operazioni tra numeri interi cerca di far sì che il risultato sia intero quando fa operazioni tra numeri reali il risultato sarà un numero reale quando fa operazioni miste tra numeri interi e reali le fa in campo reale quindi converte il numero intero nell'equivalente reale e poi fa l'operazione quindi non dà un errore per il fatto che stai facendo una somma di un intero con un reale è abbastanza furbolo dire ok se stai facendo più 1 3.5 più 1 fa 4.5 quell'1 lì anche se è intero lo tratta come reale quindi è in grado di mescolare facilmente numeri reali e numeri interi cosa che non è altrettanto vera se cerco di mescolare numeri e stringhe ovviamente non posso fare ciao più 7 se 7 è un numero quindi ogni tipo di dato ha un certo insieme di operazioni permesse qui andiamo avanti perché è quello che abbiamo già fatto insieme in cui tre tipi di dato fondamentali con cui cominciamo a lavorare oggi sono appunto l'intero il reale e la stringa tutti e tre sono diciamo così intercambiabilmente associabili a qualunque variabile e poi li posso usare nelle espressioni usando ovviamente l'operatore di medici ma proviamo a fare questo quiz che ci viene proposto qua poi facciamo un po' di pausa qui ci dice allora tax rate uguale 5 print tax rate cosa stamperà? 5 tax rate uguale 5,5 print tax rate mi stamperà 5,5 tax rate uguale non taxable mi stamperà non taxable e in realtà lui mi dice guarda che non stampa 5 5,5 e non taxable ma stampa 5 5 e non taxable cosa c'è che non va secondo voi? il secondo print è sbagliato perché? la definizione della variabile è quale? ce n'è una non è specificato che è flood no allora è il nome della variabile qua questa r dovrebbe essere maiuscola questa variabile è tax rate quindi voi alcuni di voi stanno concentrando sulle parti più complicate l'algoritmo i dati i float in questo qua è un errore cretino di battitura dopodiché ti salta fuori un valore e cominci a dire ma perché mai ma pure qua l'ho segnato 5,5 allora proviamo a rifare poi magari non è scritto così c'è un calcolo complicatissimo pensi che il calcolo sia sbagliato e in questo caso non abbiamo abbiamo una sola variabile che si chiama tax rate che modifichiamo tre volte e stampiamo tre volte ma abbiamo due variabili diverse una tax rate con la r grande l'altra con la r piccola quindi qui sto segnando il 5,5 un'altra variabile che non c'entra niente che non userò più in questo programma e sto stampando il valore di questa variabile prima che valeva 5 e continua a valere 5 perché nel frattempo nessuno l'ha modificata quindi purtroppo quando troviamo un errore dobbiamo sempre andare a cercare l'errore su più livelli dal semplice errore di battitura all'errore logico all'errore di calcolo all'aver messo le parentesi nel posto sbagliato all'aver moltiplicato o diviso per il fattore di conversione 11 litri il programma non ci dice in che cosa è sbagliato semplicemente salta fuori una cosa in attesa diversa da quella che mi aspettavo e poi devo andare a capire perché questo per fortuna come dicevo quando abbiamo tanti occhi gli errori sono più facili da vedere ok direi che possiamo fermarci 10 minuti a capire a capire Grazie.